a lavorare, a lavorare per il loro lavoro, e ora non abbiamo un posto più curato, ci siamo A presto Com'è andata questa partita? Abbiamo finalmente spugnato il nostro palazzetto? Ce l'abbiamo fatto, con un po' di fatica non ce l'abbiamo fatto. Perfetto, grazie. Non completamente ancora, infatti è un'altra vittoria da due punti. Quest'anno, fino a questo momento, ne abbiamo fatte quattro e sono arrivate tutte così, con la sofferenza. Questa poi, fino all'ultima palla proprio. Però va bene così, va bene soprattutto perché interrompiamo una serie di due sconfitte consecutive. Poi perché facciamo punti che per noi sono ossigeno in questo momento. Poi perché dobbiamo comunque guardare avanti e essere positivi nelle speranze che abbiamo. Certamente lavoro da fare veramente tanto. Va bene, grazie.